vai dove c'è il gargamella e vai, non fermarti è stanco, è già stanco e quello chi è? a due ce n'era, neanche uno a due ce n'era, neanche uno a due ce n'era, neanche uno a due ce n'era da qua e sto tagliando qua è arrivato lo spavio, andiamo via che fa il rumore questo è secco però, non si rompe questo va tagliato questo va tagliato qua lo saltiamo via questo lo tagliamo però a meno che lo spostiamo di là ma non riusciamo tagliamo si ma ci passiamo sopra prova a guardarlo prova a guardare quella grande se abbiamo il passaggio di fianco guarda se ci passiamo sopra si è girato oh è girato dobbiamo c'è già il segno di qualcuno che è passato su è tutto collegato per la medicina cinese è vero esatto si fa male il posso con il trota esatto venga al contrario fa fatica porca trota vediamo un'altra zappata di lana vediamo un'altra zappata di lana anche il filicolo anche qua esatto tanto vediamo quello non ci provo però tiro sulla vertigo tiro sulla vertigo va bene ma c'è giù altro no no ma cosa ci passiamo di sopra davvero dai passi ci passi sopra oh diavolo passi no ma quello ci passiamo o di fianco o di sopra e ci passi e ci passi figaro guarda come si è scavato da quando non passiamo più non c'è mai stato quella roba qua ma non così è sempre stato in piano qua sempre perché teniamo compattata probabilmente la terra qualche roba e tu noi abbiamo le tecniche è un alloro questo qua no è un castano è un castano stavo dicendo ma ci dà un bel po' che si trascita la roba che si trascita tempo che non passiamo più occhio che taglio questo mettilo sotto d'invito beh però che non era sbagliato ti invito ascoltami lo teneva sotto un pezzettino invito a a farsi male qua arrivi arrivi sposti però guarda che davvero per me se ce li mettiamo sotto male non li facciamo e fermiamo lì anche un pochino l'acqua che evita di eh caccia caccia sotto quando c'era il 200 in piano quello lì che era quello lì che era quello che cagliato dai mago dai mago dai mago buttalo sotto come invito vieni qua auto ma va ma fausto ma sei fuori ma veramente ma è positivo il posto ti ho capito no sotto sotto in basso e comunque guarda che forza che hanno ributtano fuori eh impressionante butta via di sotto male male non li fanno davvero eh ma no eh ma se passi di qua viene così butta dentro butta dentro butta dentro Sergino davvero butta anche questo sembra meno alto ma poi dopo dietro è più alto fa niente ma come vado su come un razzo e poi dopo dietro c'è burro butta dentro di là vediamo eh già c'è un'altra faccia ascoltate io scendo di qua eh beh però anche a decchire la mia tambera no no ma giù non ti preoccupare che giù è il meno no giù è piatto no non è piatto ma se avete il casco sì no questi sono verdi ma va ma non gli fa un cazzo quello ma non gli fa un cazzo quello